voglia di relax al miglior prezzo rivolgiti all'outlet della poltrona una vasta gamma di poltrone made in italy di tutte le marche a prezzi di fabbrica da sempre cerchiamo in tutta italia le poltrone migliori realizzate con materiali di alta qualità a prezzi veramente outlet sono tutte poltrone che arrivano da fiere set fotografici o semplicemente sono giacenze di magazzino dei maggiori produttori italiani alcune aziende ci hanno consentito di acquistare interi lotti di produzione e questo ci ha permesso di proporvi le nostre poltrone relax a prezzi imbattibili con sconti del 30 del 50 o addirittura del 70 per cento rispetto al prezzo di listino sono tante poltrone diverse per soddisfare ogni vostra esigenza a prezzi imbattibili il prezzo importante specialmente in questi tempi di crisi ma è altrettanto importante la qualità di quello che acquistiamo stiamo parlando di poltrone made in italy realizzate da artigiani italiani con materiali di prima scelta a partire dalla struttura interna dalle meccaniche fino al rivestimento tutte le poltrone che vi presentiamo sono 100 per cento made in italy e garantite sia per quanto riguarda la parte meccanica sia per quanto riguarda quella elettrica ma entriamo subito nel vivo della trasmissione per farvi capire davvero fino in fondo di che cosa stiamo parlando un esempio di quello che vogliamo proporvi oggi per oggi intendo fino esaurimento scorte è questa poltrona sulla mia sinistra questa è una poltrona comodissima tra l'altro con una seduta di larghezza notevole e con struttura rinforzata in grado di sostenere fino a 250 kg di peso ma allo stesso tempo ha una forma avvolgente ed elegante e notate anche che belli questi braccioli con inserti in legno bene questa poltrona relax con due motori indipendenti struttura rinforzata e in tessuto in microfibra antimacchia ve la proponiamo con uno sconto del 50 per cento rispetto al prezzo di listino poltrone di varie dimensioni in svariati tipi di tessuti e colori tessuti che nella maggioranza dei casi sono idro repellenti antimacchia antibatterici e analergici alcuni modelli sono perfino registrati al ministero della salute come presidi medici e non potrebbero essere altrimenti data la loro funzione e per questi modelli potrete ottenere una detrazione fiscale del 19 per cento ad esempio uno dei tanti modelli che abbiamo a disposizione e tra l'altro riconosciuto anche come dispositivo medico è questa bella ed elegante poltrona modello berger pensate questa poltrona oltre ad essere dotata di un sistema relax è dotata anche di un sistema lift ossia di alzata assistita cosa vuol dire vuol dire che basterà semplicemente schiacciare il pulsante di un telecomando per essere aiutati sia ad alzarci che a sederci senza gravare così sulle gambe o sulla schiena e allora chiamate subito per avere maggiori informazioni e ricordatevi che abbiamo pochi pezzi disponibili e soprattutto non perdete l'occasione di portarvi a casa una poltrona bella elegante e funzionale che vi consentirà davvero di essere autonomi sia nell'alzarvi che nel sedervi pensate uno sconto del 60 per cento su questa poltrona ma vi ricordo che abbiamo pochi pezzi oltre alle poltrone già presenti in magazzino avrete una scelta ancora più ampia perché i nostri artigiani sono in grado di realizzare poltrone su misura addirittura con meccaniche rinforzate capaci di reggere fino a 250 kg di peso inoltre non buttate via la vostra vecchia poltrona perché noi ve la super valutiamo sull'acquisto di un nuovo modello e vi ricordo che tutte le nostre poltrone sia che provengano da esposizioni o da fiere o che siano giacenze di magazzino hanno la garanzia legale altra cosa importante la consegna non verrà effettuata da un corriere qualunque che vi lascerà poi semplicemente il pacco davanti casa e se ne andrà la consegna delle nostre poltrone verrà effettuata dal nostro personale che vi porterà la poltrona direttamente a casa procederà a togliere l'imballaggio e la metterà in funzione e se un domani doveste aver bisogno anche di assistenza potrete telefonarci tranquillamente e noi vi manderemo il personale tecnico direttamente a casa vostra e adesso per trovare un lato positivo in questo periodo di crisi economica bene noi abbiamo deciso di andare incontro alle aziende che si trovano dell'invenduto in magazzino e hanno bisogno di far cassa ma allo stesso tempo veniamo incontro a tutti voi che desiderate una poltrona di qualità una poltrona assolutamente made in italy e che con noi potrete avere con sconti del 30 del 50 o addirittura del 70 per cento inoltre vi agevoliamo ancora perché potrete avere queste belle poltrone pensate anche in comode rate piccole piccole vi ricordo inoltre che quelli di voi che hanno un'invalidità certificata potranno acquistare la poltrona con l'iva agevolata al 4 per cento quindi la poltrona vi costerà ancora meno a questo punto non vi rimane altro che chiamare il numero in sovrimpressione siamo a vostra disposizione per qualunque richiesta io vi chiedo dopo una vita di lavoro e di sacrifici ma ce lo vogliamo concedere il lusso tra virgolette di una bella poltrona relax magari dotata di meccanismo di vibromassaggio o di alzata assistita bene questo è un lusso assolutamente accessibile grazie agli sconti che vi proponiamo sconti però che sono validi fino ad esaurimento scorte e che comprendono anche la consegna a domicilio non stiamo parlando di poltrone qualunque stiamo parlando di poltrone relax dotate di meccanismi manuali o elettrici che vi consentiranno di assumere la posizione più adatta a voi più adatta alle vostre esigenze quando guardate la tv o leggete un libro potrete semplicemente alzare la piediera per portare i piedi all'altezza del cuore oppure potrete decidere magari di fare un sonnellino ristoratore e in questi casi è importante che l'imbottitura sia la più adatta alle vostre esigenze pensate noi abbiamo addirittura dei modelli con seduta in memory form proprio per garantire il massimo comfort e la massima adattabilità della poltrona alla vostra fisicità ma pensate anche alla funzione vibromassaggio in grado di alleviare il mal di schiena e defaticare le gambe dopo una lunga giornata di lavoro e tutto questo oggi potrà essere vostro a prezzi outlet con sconti del 30 del 50 addirittura del 70 per cento rispetto ai prezzi di listino quindi segnate il numero in sovrimpressione e soprattutto telefonate perché telefonando potete ricevere la visita di un nostro incaricato a casa vostra che saprà dirvi in tempo reale quelle che sono le poltrone disponibili tutte le poltrone sono praticamente pezzi unici ma se ne volete due uguali per cambiare interamente il vostro salotto i nostri artigiani saranno in grado comunque di realizzare per voi una poltrona nuova identica a quella che già abbiamo oppure volete coordinare la poltrona con un divano magari un divano letto per i vostri ospiti nessun problema gli artigiani dell'outlet della poltrona sono in grado di venire incontro a tutte le vostre esigenze continuiamo la nostra rassegna con questa bella poltrona classica ma attenzione perché è classica solo all'esterno internamente invece un vero e proprio concentrato di tecnologia e comodità è dotata infatti di un telecomando per regolare l'inclinazione dello schienale e l'inclinazione della pediera e in più è dotata di queste due alette laterali che vi consentiranno di poggiare la testa qualora vi addormentaste e non è così improbabile perché le nostre poltrone sono davvero comode inoltre è dotata di una pratica tasca laterale cucita a mano ma il vero punto di forza è il roller system un sistema a ruote che si aziona grazie a una leva posizionata nella parte posteriore della vostra poltrona in questo modo questo oggetto diventerà un oggetto leggerissimo facile da spostare rendendovi anche più semplice la vita quando farete le pulizie a casa e dopo che avrete finito anche questa mansione potrete sedervi comodamente sulla vostra poltrona e godervi tutto il relax infine ed è forse la cosa più importante per alcuni di noi questa poltrona è dotata del sistema lift il sistema di alzata assistita che vi mette letteralmente in piedi pensate alla fatica e gli sforzi che si fanno quando si cerca di aiutare un familiare ad alzarsi dal divano o da una vecchia poltrona come minimo sollecitiamo la nostra schiena nel peggiore dei modi con conseguenze che a volte sono anche durature oppure rischiamo involontariamente di fare del male al nostro familiare ma ora con il sistema lift sarete più tranquilli voi e saranno più tranquilli anche i vostri familiari che possono sedersi e rialzarsi dalla poltrona in completa indipendenza e tutto questo a prezzo outlet le offerte che vi proponiamo oggi sono tutte valide ma fino a esaurimento scorte quindi mi raccomando telefonate appena vedete la poltrona che vi piace per avere informazioni anche senza impegno ma la cosa importante è telefonare perché in questo modo potrete avere informazioni anche sugli altri modelli quelli che non siamo riusciti a farvi vedere qui oggi per ragioni di tempo e di spazio inoltre con un incaricato che verrà appositamente per darvi informazioni sul prodotto che vi interessa e su tutti gli altri potrete avere informazioni in tempo reale sui modelli ancora disponibili nei nostri magazzini ci sono poltrone per tutte le esigenze pensate per alcuni modelli abbiamo oltre che la versione standard è disponibile anche la versione small o extra large con meccanica rinforzata parliamo poi di poltrone relax manuali o elettriche parliamo di vibro massaggio massaggio shatsu parliamo di poltrone sia nella versione in ecopelle antimacchia sia nella versione in microfibra antimacchia e sono tutte poltrone scontate dal 30 al 70 per cento continuiamo la nostra rassegna adesso parlando di questa poltrona alla mia destra non stiamo parlando di una poltrona qualunque ma stiamo parlando di una poltrona con ben quattro motori indipendenti pensate a tra l'altro due sistemi che sono molto interessanti e molto pratici e funzionali come l'alzata assistita e l'alzata verticale ossia si alza verticalmente per consentire a chi la usa di sedersi al tavolo con gli altri commensali e vi chiederete e questi braccioli non daranno fastidio bene questi braccioli si possono togliere e al posto di questi tra l'altro si può inserire un pratico tavolino nell'apposita fessura in più potrete rimuovere le orecchiette cosa utile quando magari si vuole aiutare un familiare a spostarsi direttamente dalla poltrona a letto questa poltrona è riconosciuta come dispositivo medico e pertanto vi darà la possibilità di accedere alle detrazioni fiscali previste per legge inoltre nella parte posteriore è dotata di un pratico maniglione che vi consentirà di spostare la poltrona con una persona sopra questa poltrona è disponibile in diversi colori e con uno sconto del 40 per cento ma attenzione perché ne abbiamo soltanto sette pezzi quindi mi raccomando telefonate bloccate l'offerta oppure telefonate anche soltanto per avere maggiori informazioni l'importante è non perdere l'occasione che vi stiamo dando trovare la posizione più adatta alle proprie esigenze è la cosa più importante per capire che cos'è effettivamente il vero relax ma fin tanto che ci ostineremo ad utilizzare delle vecchie poltrone sfondate beh allora a quel punto non capiremo mai cosa voglia dire davvero fare del bene a noi stessi invece una bella poltrona comoda vi consentirà di preservare una buona postura vi consentirà anche di evitare il mal di schiena quindi godetevi una poltrona che sia valida e soprattutto comoda le poltrone con sistema di vibromassaggio ad esempio vi consentiranno di rilassare la muscolatura e le articolazioni immaginate ad esempio di tornare a casa dopo una giornata pesante di lavoro immaginate un po che bello sarebbe potersi sedere su una poltrona con come questa dotata di sistema di vibromassaggio pensate che tutto questo potrebbe dare giovamento al vostro fisico dalla testa e i piedi e questo vorrebbe dire poi dormire anche meglio la notte se poi tra quelle in pronta consegna non trovate la poltrona che volete non c'è problema ve la facciamo fare su misura garantendovi comunque uno sconto di almeno il 30 per cento volete ancora di più volete davvero trasformare il vostro salotto di casa in un centro benessere e allora fatelo con questa poltrona relax una poltrona dotata di massaggio shatsu ricreato con il sistema di braccia indipendenti e non il rullo a cui molti di voi si sono abituati questa poltrona ricrea in tutto e per tutto quella che è la vera antica tecnica del massaggio shatsu per riproporre anche a casa vostra quello che è il vero relax la poltrona shatsu è dotata di diverse tipologie di massaggio il massaggio stretching che effettua uno stiramento plasmante dei muscoli dorsali favorendo il rilassamento della muscolatura interessata il massaggio needing capace di alleviare i dolori e le tensioni muscolari con effetto positivo sulla circolazione sanguigna periferica e cardiaca il massaggio tapping che attraverso un picchettio dai movimenti lenti e intermittenti stimola la circolazione sanguigna e agisce sulle zone soggette alla cellulite e all'accumulo delle masse adipose potrete avere questa poltrona shatsu con lo sconto del 40 per cento ma affrettatevi perché ci sono pochi pezzi e una volta terminati non so quanto ci vorrà prima di averne altre alcune aziende vi propongono due poltrone al prezzo di una ma se poi due poltrone non le volete bene noi preferiamo offrirvi una poltrona a metà prezzo e sarà però la poltrona che vorrete davvero e se poi ne vorrete acquistare due beh sarà come pagare al prezzo di uno ma sarete voi a decidere inoltre ricordatevi che potrete acquistarle anche con piccole comode rate mensili siamo riusciti ad acquistare interi lotti di produzione e questo ci ha permesso di proporvi delle poltrone così incredibili a prezzi veramente stracciati con sconti del 30 del 50 o addirittura del 70 per cento ma adesso tocca a voi quindi telefonate per bloccare queste incredibili promozioni perché con l'outlet della poltrona la comodità e il benessere sono finalmente alla portata di tutti